...girate nel vasto panorama della diciassettesima fiera campionaria internazionale di Milano. Un trenino elettrico ci trasporta. Ci saluta una chioccia magicamente prolifica che ci sembra l'insegna di questa edizione della fiera, riuscita più ricca e completa delle precedenti, a dispetto delle sanzioni. Di fronte al padiglione degli apparecchi scientifici, una superba automotrice di sele elettrica, in acciaio inossidabile, capace di raggiungere i 120 km all'ora, ci testimonia come anche in questo campo la produzione nazionale è all'avanguardia. Ed eccoci di fronte ad uno dei più recenti ritrovati della genialità italiana, che ha suscitato un interesse mondiale, la lana ital, lana artificiale estratta dalla caseina, che si presta alla filatura e alla tessitura nelle più varie tinte, costituendo tessuti che non hanno nulla da invidiare a quelli di lana naturale. E per finire un'occhiata nel padiglione che ospita la mostra della cinematografia. Grazie.